In un clima di tensione palpabile, la scorsa puntata di È sempre carta bianca ha riservato sorprese e scontri inaspettati. L'alpinista Mauro Corona, ospite dello show, si è trovato coinvolto in un acceso dibattito, con la conduttrice, che ha acceso il dibattito tra i telespettatori. Domenica 27 ottobre, un cambio improvviso dell'orario del suo intervento ha sollevato la sua ire, non sono una pedina di scacchi che può essere spostata a piacimento, ha esclamato, mostrando la sua determinazione se la sua intenzione è quella di spostarmi, allora non ci sarà più occasione di vederci. Le sue parole, piene di passione e indignazione, parlavano di un vissuto di umiliazioni e lotte ho subito così tanto che ormai l'unico modo per sopravvivere è non farmi usare. Ha continuato, mentre la tensione nello studio cresceva. Ma la reazione della Berlinguer non si è fatta attendere. Perché dovrei essere io a pagare per le sue esperienze. Questo è davvero ingiusto. Tuttavia, il colpo di scena è arrivato nella puntata successiva. Con una dose di sincerità e vulnerabilità, Mauro ha deciso di fare un passo indietro a volte. La mia impulsività prende il sopravvento, ha detto, ammettendo di essere talvolta screanzato. Questa sera, però, voglio chiarire. Lei non è affatto la causa dei miei tormenti. Anzi, stasera è particolarmente bella. Con queste parole, la tensione che aveva avvolto il programma si è dissolta, lasciando spazio a un clima di riconciliazione. Il lettore si chiederà quali segreti e emozioni sono in gioco tra di loro e come queste interazioni possano trasformarsi in amicizia. La risposta rimane avvolta nel mistero, stimolando la curiosità e invitando a seguire il prossimo incontro.